Mi chiamo Francesco e abito nella provincia di Lucca. Da circa quattro anni sono in possesso di due rovo Ambrosio, un L85 Elite e un L30 Elite per il taglio del mio giardino che è di circa 2800 metri quadri. Ho conosciuto Ambrosio tramite un amico e nonché rivenditore di zona che una sera parlando mi ha proposto la possibilità di installare un robottino automatico per il taglio dell'erba e sostituire il mio vecchio tagliaerba a spinta. Il più grande vantaggio di aver acquistato Ambrosio è il tempo libero che adesso ho a disposizione perché avendo un'azienda io durante la settimana sono sempre impegnato e impiegare il sabato e la domenica per il taglio e il mantenimento dell'erba è una cosa che ha la lunga pesa. Quello che ho apprezzato di più dopo l'acquisto di Ambrosio oltre al rapporto qualità prezzo che ha è il rapporto tempo libero prezzo in quanto come sappiamo il tempo non ha prezzo e questo robottino ti regala veramente tanto tempo libero che adesso posso sfruttare per fare le cose che più mi piacciono. Prima di comprare Ambrosio tagliavo l'erba con il rasa erba a spinta manuale, quello classico, e mi impiegava all'incirca 3-4 ore settimanali. I miei due robot Ambrosio lavorano così, l'L30 che copre la parte più grande del giardino circa 3 ore al giorno, mentre l'L85 che copre la parte più piccola ma più in pendenza del giardino circa 2 ore giornaliere. Sono molto contento della qualità dell'erba perché Ambrosio lavorando tutti i giorni, quotidianamente, riesce a mantenermi un giardino e un'erba molto uniforme e poi posso impiegarlo nelle ore che preferisco della giornata. Se ho bisogno una sera di fare una cena in giardino posso tranquillamente farlo lavorare a orari diversi. Una cosa molto comoda di Ambrosio è la possibilità di scegliere gli orari di lavoro, ad esempio io preferisco farlo lavorare di giorno in modo che quando rientro a casa mi piace vederlo che è lì che lavora, mentre per esempio mio papà preferisce avere il giardino libero durante il pomeriggio e lo fa lavorare di notte. E un'altra cosa che mi ha stupito dopo che l'ho comprato e l'ho provato è il fatto che nonostante si affronti delle giornate di pioggia o molto brutte, lui rientra alla base giustamente quando piove ma riesce a mantenere sempre un giardino pulito e lineare. Adesso che ho provato Ambrosio è veramente difficile farne a meno e sicuramente in un futuro ricompererei questi robottini. Inoltre li consiglio perché veramente fanno un lavoro che è ottimo, anche ai miei familiari li ho consigliati e li hanno acquistati diversi modelli. Anche in azienda dove abbiamo un piccolo giardino abbiamo comprato recentemente un robot per il mantenimento dell'erba.